ciao allora sì lo so oggi altro video decorazione perché avevo voglia di fare qualcosa allora non vedo la fotocamera perché ho provato a mettervi lì la insomma quindi spero che si veda qualcosa dunque oggi volevo andare ad attaccare su questi miei soliti supportini completamente in legno che prendo da wish i personaggi di snoopy o penis perché ce li ho lì e li avevo dentro un sacchetto da troppo tempo volevo metterli fuori dunque ve li faccio vedere intanto un attimino allora partiamo da vabbè la mitica aspettate che vedo guarda se si vede la mitica cuccia di snoopy con snoopy poi abbiamo beh vabbè woolstock nella sua fontana e poi cosa abbiamo charlie brown che è fatto anche benissimo con il suo mitico amico linus eccolo qua e a questo punto è charlie brown e sua sorella selli eccola qui spero che metta a fuoco poi dopo abbiamo luci eccola qui poi dove merci con gli occhiali piperita patti la mitica piperita patti poi aiutatemi schredder dovrebbe essere schredder con il mitico piano ovviamente e poi mi ne scappa uno si chiama pig pig pen eccolo qui e questi erano tutti allora direi iniziare a fare qualcosa con tutti questi soprattutto io non ho preso le misure quindi non so se ci stanno tutti quanti oltretutto dunque allora ovviamente snoopy va con la sua casetta e beh ovvio e poi li mettiamo per famiglia per amici per non lo so il piano dato che è molto ingombrante lo mettiamo qui ci sta qui si è ovviamente schredder va al piano quindi ovvio che ci dobbiamo mettere piperita patti no 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 perché luci attaccata al piano come sempre piperita la mettiamo adesso ci pensiamo charlie brown e linus scusate ma io li metto in primis e poi dietro chi mettiamo piperita così con la solita selli anche perché lei è emersi poi c'è selli che è la sorella di charlie però dove la mettiamo ok allora direi che più o meno ci stanno tutti il fatto è che questo piano è molto ingombrante ci potrei mettere direttamente luci sopra dato che c'è sempre sopra effettivamente ce la potrei mettere però va più alta di tutti dopo non va bene allora direi che iniziamo e iniziamo dalla cuccia così la sistemiamo 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 anche snoopy così quindi iniziamo dalla cuccia o vi passo davanti scusate con la colla a caldo e ci mettiamo snoopy e ci mettiamo snoopy ecco poi completamente dall'altra parte il piano e poi prendiamo un'altra cartuccia perché l'ho finite mi sembra logico ecco 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 e ci mettiamo ovviamente dove è finito eccolo inizio per dare i personaggi e lui lo mettiamo qui e fino a qua ci siamo siamo tutti d'accordo che lui si va vicino al piano anche perché li e selli merci siamo tutti d'accordo che lui si va vicino al piano quindi ecco qui poi iniziamo a mettere io ci voglio mettere qua ne voglio mettere qui però prima mettiamo linus e charlie brown così vediamo lo spazio qui ecco ce n'è quindi li possiamo mettere anche un pochino più vicini allora mettiamo charlie brown così vediamo un po le misure e a questo punto ci sta linus gli amici devono stare assieme poi dopo però chi mettiamo piperita piperita si vede bene piperita così direi di sì mettiamo piperita ok poi ci mettiamo su emersi che l'è sempre dietro ok quindi pig pen che è il personaggio per me più marginale e lo possiamo mettere qui e poi ci mettiamo sei lì ok sei lì stai ferma ora controlliamo che siano tutti perché ho attaccato i personaggi perché così allora intanto se non li avevo dentro una busta qui dentro un cassetto quindi non li vedevo non mentre così io ce li ho tutti sul mobile e li vedo tutti e sono carini poi dopo quando vado a spolverare oppa la peppina è andata a finire la colla caldo sulla cuccia come si toglie la colla caldo ragazzi lo sapete proviamo con la mia mitica lima lima si sembra che venga senza rovinarsi allora togliamo i film e io invece li metto sul mobile e li vedo e quando vado a pulire comunque a spolverare tolgo tutti assieme ma sono tutti belli fermi sì 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 sono tutti belli fermi ed faccio presto poi dopo non so se ve l'ho già fatto vedere ma sul mobile ho anche le altre creazioni che abbiamo fatto e mi piacciono queste appoggi in legno e poi dopo se in un futuro voglio fare qualcos'altro continuo a togliere i fili intanto se voglio fare qualcos'altro lo posso fare tranquillamente perché basta che vado sotto con una levetta li stacco ed sono pronti per farci qualcos'altro e niente questo mi piaceva era carino e volevo passare un attimo un po' di tempo a distrarmi e mi sembra anche una bella cosina da fare assieme ah non vi ho detto questi personaggi di pinus e li ho trovati su wish strano vero e li ho pagati e li ho presi non mi ricordo se 2 euro più 3 di spedizione o 3 euro e 3 euro di spedizione comunque sia o 5 euro o 6 euro direi che ci stavano se anche perché sono 12 personaggi quindi ci sta e sono fatti sono carini io spero che la telecamera stia registrando anche perché io da qua non la vedo ed è quindi speriamo e niente dunque spero vi tenuto un pochino di compagnia non vi metto il link ovviamente anche perché penso deve alle presi mesi e mesi fa secondo me sì mesi mesi fa proprio e quindi ovviamente sono esauriti ma mettete su wish figure pinus e li trovate oppure figure snoopy le trovate ma ci sono tantissime altre c'è proprio un mondo un mondo che si apre e sono carinissime e basta io spero che voi avete un pochino di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrei ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao